La nostra rassegna stampa in apertura I dati dell'ultimo bollettino diramato dall'ASREM sul fronte coronavirus I nuovi positivi sono 114, i tamponi molecolari 22, gli antigenici invece 92 col tasso di positività che si afferma adesso al 10,3%, 7 i guariti mentre si raccoglie il dato di un nuovo decesso e mentre c'è anche un nuovo ricovero 0 i dimessi, 0 trasferimenti e così gli attualmente ricoverati sono 31 Adesso ai titoli dei quotidiani partiamo da primo piano Molise, regionali 2023, tartaglione evitiamo gli errori del passato, la parlamentare di Forza Italia non si sbottona ma nei fatti boccia la maggioranza necessario ingranare la marcia nella giusta direzione dice ad un anno dalle elezioni candidati aspettiamo di conoscere le intenzioni di Toma Isernia, la ferita è ancora aperta il punto a firma di Umberto Berardo al Molise servono persone oneste e competenti mentre al centro pagina il covid una vittima e un ricovero tasso nella media nazionale il decesso nel reparto anziano fragile è morto un 78enne di Cerro al Volturno 114 contagi, 7 guariti il rapporto tra tamponi e positivi scende al 10,3% turismo, bit, avviso per le imprese molisane domande entro sabato poi le agorà democratiche incentivi a chi promuove lavoro agile e smart working così salviamo le aree interne la proposta di legge di Micaela Fanelli sarà discussa nel corso della due giorni in programma il 23 e il 24 febbraio Campitello pienone nei weekend ma le piste in quota restano chiuse ci spostiamo a Campobasso post pandemia venerdì santo e corpus domini pronto il piano B mentre a Termoli la cronaca l'adrinazione rie ricco il bottino 7 mila euro contanti e orologi di valore loro sport nei tagli alti con il calcio di serie C speciale tifosi il blitz dei lupi a Bari negli occhi dei 650 sostenitori rosso-blu mentre in serie D guadalupi e guida fanno volare il vasto Girardi il notaresco va al tappeto per il calcio di eccellenza piani alti della classifica immutati vincono Termoli Agnone e Isernia e passiamo così al messaggero cartelle più tempo per pagare rinviato al 30 aprile il termine per rateizzare i debiti con l'agenzia delle entrate sarà possibile ottenere anche sei mesi di proroga prima di restituire i prestiti covid nei tagli alti la crisi in Ucraina ordine di attacco per i russi l'allarme dell'America attenzione il nodo delle sanzioni non saranno sul gas cosa vuole Mosca l'accordo segreto che può evitare il conflitto ne parla Alessandro Orsini e poi all'interno periferie e trasporti 5 miliardi per rilanciare Roma oggi tre ministri e il sindaco spiegano l'utilizzo dei fondi dalle scuole ai tribunali c'è spazio anche per lo sport ieri la giornata di campionato Lazio Solompari Champions lontana Udine finisce 1 a 1 sprecata l'occasione di superare l'Atalanta passiamo al Corriere della Sera il titolo è proprio sulla guerra tra Ucraina e Russia l'Europa prova a fermare Putin le truppe di Mosca non lasciano la Bielorussia telefonata di Macron al Cremlino per la tregua gli 007 statunitensi a Biden è stato dato l'ordine di invadere la strategia di Washington a rivelare le mosse russe noi e gli eventi l'illusione di essere cambiati ne parla Massimo Gramellini e poi all'interno Attanasio il carabiniere uccisi per 50 mila dollari assalto in Congo la ricostruzione la cronaca al centro pagina la famiglia di Claudio sopprusi nel college il giallo lo studente morto a New York trattamento inimmaginabile qui l'immagine di Claudio Mandia non ancora diciottenne originario della provincia di Salerno è stato trovato senza vita in un esclusivo college di New York due anni di covid i dati e i racconti Elisabetta positiva Mattarella intanto elogia i sanitari e passiamo alla Repubblica Ucraina sull'orlo della guerra la crisi in Europa per i medi americani comandanti russi hanno già ricevuto l'ordine di invadere Biden riunisce il Consiglio di Sicurezza Nazionale telefonata Macron Putin il Cremlino lascia 30.000 militari operativi in Bielorussia l'analista Fiona Hill Vladimir si è isolato grande fuga dal Donbass già 40.000 profughi hanno oltrepassato il confine e qui l'immagine di un carro armato russo in azione sul territorio bielorusso il fronte dell'est l'analisi di Ezio Mauro e poi cambiando argomento la pandemia con Elisabetta positiva al covid contagiata dal figlio Carlo il virus intanto in Italia non fa più paura il commento di Ilvo Diamanti e adesso i titoli del fatto quotidiano gli scienziati contro la quarta dose rischio giovani già con la terza chi ha tre dosi rischia il ricovero più di chi ne ha solo due dicono appunto gli scienziati sul fronte vaccinazioni poi il fatto economico fusione e mini reattori è tardi per la transizione poi anche sul fatto quotidiano si parla di Ucraina gli USA attaccano la Russia è falso non avrebbe senso il sole 24 ore redditi dichiarati pochi milionari nei dati del fisco e l'Italia è ultima i contribuenti al top sono solo 3.637 6 ogni 100.000 abitanti contro 168 in USA 74 invece in Svizzera 30 in Germania 25 in Spagna il 94% delle persone fisiche sotto 50.000 euro nella busta paga la rivoluzione di marzo le novità e gli esempi spiegati all'interno del quotidiano economico poi all'interno ancora la moda nell'era del metaverso studi legali sulla nuova frontiera passiamo adesso allo sport con i titoli della gazzetta dello sport lo scudetto più pazzo del mondo l'Inter crolla a San Siro corsa a tre mai vista per il titolo in zaghi in crisi Raspadori Scamacca è un sassuolo show l'Inter perde contro i neroverdi mentre per il Milan che è ancora primo Pioli ritrova l'ottimismo e le sue stelle sul fronte Champions League Champions Blauvic insegue un gol subito al debutto come Del Piero domani Villareal Juventus poi Piontek volo viola furia Atalanta pare annullato e Gasperini espulso e adesso vediamo il palinzesso previsto per quest'oggi sulla nostra rete alle ore 11 conto alla rovescia camminando Molise alle 13 13.50 Musa TV l'edizione del telegiornale alle ore 14 alle 16 la partita di basket tra i Viglio Mantova poi Punto Verde l'edizione serale del TG News alle ore 19.30 questa sera alle 21 l'appuntamento con fuoco incrociato alle 23 l'ultima edizione del telegiornale e con questo è tutto grazie per essere stati con noi a tutti l'augurio di un buon inizio settimana Grazie a tutti Grazie a tutti